Stasera focus sulle labbra e vi sgancio una bombetta. Rossetto Creamy Refill System di Diego Dallapalma. Apriamolo subito. Un rossetto che porta con sé due innovazioni. La prima nella formula, la seconda nel packaging. Andiamo a vedere questo. Abbiamo infatti due custodie, una nel colore nude matte, che è quello che vi mostro oggi, e una in un bellissimo rosso super accattivante, entrambe in alluminio, con chiusura magnetica, 100% riciclabili e sostenibili. E abbiamo 18 nuance del rossetto, che va semplicemente inserito. Viene definita una formula Creamy, appunto, cremosa, ultrasensoriale, che riveste le labbra di un film super sottile, che regala comfort e regala luminosità. Infatti il finish è luminoso e ovviamente riflettendo la luce, dà un effetto ottico di labbra volumizzate, piene, riempite. Il colore è 02 Morning Babe, ed è un bellissimo nude, con una punta leggermente tra il nocciola e pescato, molto bilanciato come colore, molto bello. Sono stata, credo, abbastanza precisa anche senza matita, super confortevole, cremoso, ma non spesso. Da valutare anche così, con una matita leggermente più scura ai bordi, per creare definizione, ovviamente, fare questo effetto contour, che permette alla parte più morbida delle labbra di uscire ancora di più. Fino al 29 ottobre, quindi avete qualche giorno per pensarci ed eventualmente colpire, sul sito di sabbioni, sabbioni.it, che ringrazio, mi ha gentilmente inviato il prodotto, all'acquisto di un refill del rossetto crini di Diego Dallapalma, avete in omaggio la custodia. E non solo, vi regalano anche l'esclusivo e precisissimo pennello labbra, che vi mostro subito. Eccolo qui, affilatissimo per compiere il suo dovere. Facciamo quindi un rapido calcolo. Solo il refill esce ad un prezzo di 17,90. Su sabbioni al momento è scontato a 15,20 circa. Passa anche il mio codice sconto, che è sempre MICHELA10, su tutto il vostro carrello in realtà è sempre valido, sempre verde. E quindi solo il refill diventa 13,60 circa. Ho fatto prima questo calcolo per voi. A 13 euro avete il rossetto con la sua custodia. Potete anche acquistare, che ne so, due tonalità, un rosso per le feste di Natale e un nude per tutti i giorni. E poi andarlo a inserire nella custodia, il rosso nelle settimane di festa, e poi tornare al vostro nude. E il pennello labbra per un'applicazione precisissima. Ditemi se non è una bomba. 13 euro e facciamo anche tutti i regali di Natale. Il refill system è un sistema sicuramente sostenibile, perché ci permette di avere meno packaging. Non solo, è anche ottimo per le donne abitudinarie, quelle che scelgono la nuance perfetta per loro, trovano esattamente quel segmento di colore che le valorizza, e quindi continuano a terminarlo e riacquistarlo. Ottimo però anche per tutte le donne che come me amano avere più scelta colore, quindi cambiare ogni giorno il colore del rossetto, perché ad un piccolo prezzo riusciamo ad avere il refill. Quindi possiamo prendere magari più colori e in base al periodo andare a vestirlo con la stessa custodia che possediamo, quindi ad un piccolo prezzo abbiamo dei prodotti di altissima qualità e riusciamo ad accontentare uno sfizio in più, qualche colore in più. Insomma, 13 euro dovevo comunicarvelo, perché è veramente una promo imperdibile. imperdibile, fatevi un regalo, è bellissimo e comodissimo sulle labbra, fate un regalo alle donne della vostra vita e portatevi avanti per i regali di Natale. Chi l'avesse provato ci lascia una recensione qui sotto nei commenti, spero di essere stata come sempre utile. Nell'info box trovate il link diretto al prodotto, ricordatevi inserite solo refill nel carrello, vi mette già in fondo al carrello la promo. Un bacio cremosissimo a voi e al prossimo video!